Le misure contenute nel decreto sulla cosiddetta fase 2 continuano a provocare proteste e dubbi per alcuni contenuti considerati poco chiari. Dopo la protesta dei Vescovi si pensa ad un'apertura delle chiese per le messe dal 10 maggio ma con le mascherine. Le regioni del nord intanto si muovono in ordine sparso e aprono le porte delle seconde case e del cibo da asporto. Il paese non può reggere un lockdown infinito. Ci avviamo all'allentamento con tutte le garanzie di sicurezza e sulla base di un piano ben strutturato dove si potrà intervenire se necessario sulla base di parametri predefiniti qualora la curva dovesse risarire. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte ieri in Lombardia nelle zone più colpite dal virus per la prima volta dall'inizio della pandemia. E per la prima volta il numero dei casi totali scende a livelli del 10 marzo scorso. Torna a diminuire il numero dei malati in calo anche il ricorso alle terapie intensive. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali confermata la discesa della curva epidemica nonostante siano in lieve aumento i decessi. Sono stati 333 nelle ultime 24 ore. Le vittime complessivamente sono 26.977. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la pandemia non è finita ed è molto probabile in una seconda ondata in autunno. Superati nel mondo i 3 milioni di contagiati e le 210.000 vittime. Negli Stati Uniti, paese più colpito dalla pandemia, è bufera sul presidente Donald Trump che secondo fonti di stampa avrebbe ignorato l'allarme sui rischi del coronavirus lanciati dalle agenzie di intelligence. Le 7.29. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In apertura la cosiddetta fase 2 che dovrebbe partire, lo sapete, dal prossimo 4 maggio. Polemiche però per i contenuti del provvedimento ritenuti poco chiari. E dopo lo scontro con la CEI, la conferenza episcopale italiana, il governo rivede il divieto di partecipare alle messe. del 10 maggio, infatti, i fedeli potranno partecipare alle cerimonie religiose indossando la mascherina. Allora, facciamo il punto nel servizio. Il 10 maggio potrebbero ricelebrarsi le messe in Italia, possibilmente all'aperto, più difficile che avverrà al chiuso. Sicuramente con la mascherina lo riporta il quotidiano La Repubblica. Le diplomazie del governo e della CEI avrebbero trovato questo compromesso, anche se Palazzo Chigi spinge per l'11 maggio, per un lunedì, perché è considerata una data più soft per la ripresa. I vescovi però chiedono di ripartire in un giorno festivo. Ora si attende che il Comitato Scientifico e Palazzo Chigi diano il via libera definitivo al protocollo della CEI. Da poco il primo era stato bocciato senza appello. Intanto le regioni vanno in ordine sparso. Uno dei più attivi è sicuramente il governatore del Veneto, Zaia, che vuole aprire il più possibile. Da oggi è consentito in Veneto lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del comune di residenza. Si può fare attività motoria in tutto il territorio comunale, anche in bici, ma con mascherine e guanti. In Emilia Romagna via libera gli esercizi, ma solo dietro l'ordinazione online o telefonica, in maniera così da non creare assembramenti. Restano le restrizioni a Rimini e a Piacenza. Mentre da oggi nelle Marche è consentita la vendita di cibo da asporto da parte di negozi che vendono alimenti e bevande e anche da parte di attività artigianali come rosticcerie, gelaterie e pizzerie al taglio. Si è risolto poi il paradossale pasticcio sull'articolo 1 del DPCM, nella parte in cui recita ci si potrà spostare per incontrare congiunti. La parola appunto congiunti ieri era diventata un caso. Poi Palazzo Chigi attraverso una nota ha chiarito che per congiunti si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Pressa per riaprire anche chi gestisce bar e ristoranti. Dal 4 maggio riapriranno ma solo nella modalità di consegna del cibo da consumare a casa. Per ricevere i clienti nei propri locali dovranno attendere il primo giugno. Sempre lunedì prossimo sarà consentito l'ingresso nei parchi per l'attività fisica, vietati gli spostamenti da una regione all'altra senza un giustificato motivo. Vennerà a indossare la mascherina per usufruire dei mezzi pubblici che avranno una capienza ridotta del 50%. E allora però critiche al provvedimento del governo sono arrivate soprattutto per quanto riguarda anche le questioni legate all'economia e alla ripartenza del Paese. Critiche che non sono state risparmiate sia dalle forze di maggioranza che da quelle dell'opposizione. L'ultimo DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provoca la fortissima contestazione dei partiti di opposizione ma crea problemi anche all'interno della maggioranza. Salvini arriva a minacciare di scendere in piazza per protestare contro le regole di ordine pubblico e della ripresa produttiva della fase 2. Tutto il centrodestra definisce timide le prescrizioni che regolano le aperture nel settore del commercio e che comunque non piacciono nemmeno a settori della coalizione giallorossa. Renzi con Italia Viva è il più deluso e dice non si può tenere un paese agli arresti domiciliari, le fabbriche vanno riaperte altrimenti moriremo di fame. E poi il suo ministro Bonetti che critica apertamente i limiti alle funzioni religiose contestati anche dalla conferenza episcopale italiana. Critiche verso Palazzo Chigi arrivano anche per ciò che il Premier non ha detto nella conferenza stampa di domenica sera. Non ha parlato di test seriologici o di app, denuncia il suo alleato Renzi. Si prolungano i divieti in assenza di una strategia per la riapertura. Ne parlano giovedì in Senato. E così se i 5 Stelle approvano le decisioni di Conte, un liberi tutti sarebbe da irresponsabile, dice il capogruppo alla Camera Crippa. Anche il Partito Democratico, provato soprattutto dalle critiche del CEI, fa fatica ad accettare in toto l'ultimo DPCM. Il capogruppo al Senato, Marcucci, dopo una riunione con i parlamentari DEM, spiega non critico il Governo, ma qualcosa va rivisto. I punti sono essenzialmente tre. Le messe, le riaperture di bar e ristoranti, barbiere e parrucchieri e la questione dei congiunti. Il centrodestra poi torna ad attaccare sulle misure economiche. Il Governo capisce che senza apertura il paese fallisce, dice Salvini, che chiede a Conte di riferire subito in Parlamento. Forza Italia chiede di riaprire tutte le attività che possano garantire la sicurezza. Basta tentennamenti. E Meloni boccia Conte, è una fase 2 che tale non sarebbe. Ma Fratelli d'Italia e Azzurri non seguono la Lega sull'idea della protesta in piazza. Il Presidente del Consiglio ieri sera si è recato in Lombardia, lo sapete, la regione più colpita dalla pandemia. È stata la sua prima visita da quando è divampata proprio l'epidemia. È stato a Milano e poi a Brescia e a Bergamo. Una visita che si è protratta fino alle 3 di notte. Il Premier Conte ha commentato gli attacchi, le polemiche di quest'ora e ha detto mi attaccano ma rifarei tutto. Tornerò presto a Milano. Non sono venuto prima perché non volevo essere d'intralcio nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, ha detto il Premier Conte ieri in Prefettura. La sua prima volta nella regione più colpita dall'epidemia. Ha incontrato il Sindaco Sala, il Governatore Fontana e il Presidente designato di Confindustria, Bonomi. Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ha specificato ancora una volta il Premier. Non è questo il momento di mollare, con milioni di persone che torneranno a lavorare. Un flusso che creerà nuove occasioni di contagio. Stiamo affrontando la fase della convivenza con il virus, non quella della liberazione. Secondo me sarebbe responsabile affrontare, dopo tante rinunce e sacrifici, la fase 2 in modo diversamente prudente, in modo assolutamente sconsiderato, con avventatezza, improvvisazione. Non ce lo possiamo permettere. Sull'apertura ancora rimandata delle chiese per svolgere le funzioni religiose e la presenza dei fedeli, che ha creato tanti malumori, il Premier ha spiegato di essere in contatto con la CEI e di lavorare ad un protocollo per le celebrazioni in sicurezza, ma adesso non si può fare. Il Governatore Fontana ha consegnato a conto un documento sulla fase 2 in Lombardia, con tre punti su cui c'è bisogno di chiarimenti. Sostegno alle famiglie, maggiori indicazioni su come modulare e controllare l'accesso sui trasporti pubblici, sostegno alle attività produttive. Gli ho avanzato l'ipotesi che si siano aspettando, aspettare così tanto tempo rischia di creare dei problemi notevoli e interi comparti. Ci penso. Milano ha voglia di ripartire con la prudenza dovuta, invece detto al Premier il Sindaco Sala, che vuole avere dati il più possibile certi sui contagi per evitare il rischio di una nuova diffusione del virus. Milano ripartirà il 4, ma probabilmente ripartirà di più il 18. Non siamo una città dove c'è molto industria, ma c'è molto servizio. Nel prossimo decreto di aprile ci saranno 15 miliardi di indennizi diretti alle imprese a fondo perduto, 5 miliardi per la riconferma dei 600 euro, che diventeranno 800 nella seconda mensilità, poi 10 miliardi a fondo perduto per le micro imprese. A confermarlo il Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, che precise inoltre che potranno beneficiarne 4 milioni e 600 mila imprese, ovvero il 96% delle imprese italiane. E allora adesso nel prossimo servizio vediamo numeri alla mano come sta andando la battaglia contro il coronavirus in calo i contagi e i ricoveri, ma torna a salire il numero delle vittime che ieri sono state, 333. Vediamo. A meno di una settimana dal 4 maggio ormai tutti i dati confermano che il virus sta rallentando per quanto in modo diverso da regione a regione. Ci sono quelle dove addirittura ieri non si è registrato neppure un nuovo contagio come Basilicata e Molise, ma anche nella più colpita, la Lombardia, ci sono dati confortanti. E poi gli ultimi numeri hanno anche segnato un record positivo. I pazienti in terapia intensiva sono scesi sotto i 2000. Non succedeva dal 16 marzo, quando un paziente su 10 finiva proprio in terapia intensiva. Ora ci sono meno del 2% dei malati. La situazione negli ospedali dunque è notevolmente migliorata. È leggermente aumentato il numero delle vittime, 260 domenica, 333 ieri, ancora molte, ma in ogni caso è il secondo miglior dato dal 14 marzo. La regione con il maggior numero di decessi resta la Lombardia, 124, ma ci sono anche quelle dove non c'è stato nessun decesso, Sardegna, Basilicata e Molise. È tornato a scendere anche il numero dei malati, meno 290, e sono in discesa anche i nuovi casi. Per la prima volta il tasso di incremento è sotto l'1%, lo 0,88. Per capire come la curva sia in discesa, basti pensare che in Lombardia il tasso di incremento l'11 marzo, quando cioè è scattato il lockdown, era al 25%, ora allo 0,81, il più basso di sempre. Nonostante questo, i suoi 590 nuovi positivi rappresentano ancora il 33% di quelli nazionali, dunque uno su tre. Moltissime le regioni con meno di 100 casi. La giornata di ieri ha segnato anche mille ricoveri in meno. Adesso chi si trova in ospedale rappresenta il 20% del totale dei positivi. Il 16 marzo la percentuale era del 50%. E allora questa è la situazione nel nostro paese. Allora vediamo più in generale nel vecchio continente, in tutta Europa, come sta andando la situazione. Italia e Spagna guidano questa drammatica graduatoria, questa drammatica classifica, però ci sono dietro anche la Gran Bretagna e la Francia. Facciamo il punto. La pandemia è tutt'altro che finita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità concentra le sue preoccupazioni sullo sviluppo del virus in Africa, Europa orientale, America latina ed alcuni paesi asiatici e si appella ai leader politici chiedendo impegno nella lotta ai contagi, innanzitutto con le mappature e i test per identificare i casi di infezione. In Europa sono stati superati 125.000 decessi legati al Covid-19. Italia e Spagna i paesi più colpiti, seguite da Francia e Regno Unito. Il continente si muove in ordine sparso verso la cosiddetta fase 2 tra l'esigenza del ritorno alla normalità e le misure di sicurezza contro la malattia. Germania ed Austria hanno riaperto gran parte dei negozi, rigide misure di distanziamento sociale e l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici. Il Ministero degli Esseri tedesco sta cercando di stabilire con i partner dell'Unione criteri comuni per viaggiare e in generale per i trasporti. In Francia la linea del primo ministro Philippe, che punta a riavviare le attività l'11 maggio con la graduale riapertura delle scuole, viene criticata dalle opposizioni che denunciano la mancanza di preparazione. In Spagna, dove i bambini hanno ricominciato ad uscire da casa, il confinamento è stato prorogato fino al 9 maggio. In Svizzera tornano a lavorare parrucchieri, estetisti, fiorai, studi medici. Riprenderanno l'attività solo su appuntamento. Secondo il commissario europeo dell'economia Gentiloni, in Europa una grave recessione provocata dalla pandemia è inevitabile. La contrazione del prodotto interno lordo nel 2020 sarà molto peggiore di quella della crisi finanziaria globale del 2008, con un ordine di grandezza del 7,5%, come previsto anche dal Fondo Monetario Internazionale. E allora, le raccomandazioni arrivate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di non abbassare la guardia perché la pandemia non è stata assolutamente sconfitta, non vale soltanto per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il paese che ha fatto registrare finora il maggior numero di vittime, 55 mila. Intanto ci sono nuove polemiche sulla Casa Bianca, sull'amministrazione Trump perché, secondo quanto scrive il Washington Post, il Presidente era già stato avvertito dai servizi di intelligence del pericolo del coronavirus. Vediamo nel servizio. Con gli Stati che si muovono in ordine sparso, tra riaperture e proroghe delle misure di contenimento del virus e contagi che sfiorano oramai quota un milione, il Presidente americano prova a guardare avanti. Ha quell'economia che, dice, ripartirà il più presto, così come le scuole per le quali Donald Trump auspica la riapertura, almeno in alcuni Stati, anche se soltanto per pochi giorni prima delle vacanze estive. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato più di 1.300 decessi. Il giorno prima erano stati di più, un dato che fa sperare quindi in un rallentamento. Più di 56.000 le vittime dall'inizio della pandemia, una contabilità che supera quella drammatica dei vent'anni di guerra del Vietnam, nella quale morirono tra il 55 e il 75 58.220 americani. Lo stato più colpito è sempre quello di New York, dove il governatore Andrew Cuomo prevede una proroga fino al 15 di maggio del lockdown. Secondo i risultati di un campione di test, il 25% dei new yorkesi avrebbe contratto il virus per la maggior parte dei casi, chiaramente senza complicazioni. Diversa la situazione in altri Stati, come Georgia, Colorado e Minnesota, dove le attività produttive stanno già riprendendo e altri come Texas e Florida si preparano a ripartire dal 30 di aprile. Ma da ieri i giornali parlano anche di altro, di report ignorati allarmi minimizzati. L'intelligence statunitense avrebbe allertato Trump più volte già a partire da gennaio e poi a febbraio in più di una dozzina di briefing riservati alla Casa Bianca sulla pericolosità del virus che si stava propagando in Cina. Avvisi ignorati per mesi dal presidente americano che prenderà la decisione di dichiarare lo stato d'emergenza soltanto il 13 di marzo. A scrivere il Washington Post, citando dirigenti dell'amministrazione statunitense, è proprio alla Cina che il presidente, il quale alcuni di quei report a quanto pare non li avrebbe nemmeno letti, oggi vuole chiedere i danni per aver appunto nascosto la portata reale di ciò che stava accadendo. Cina che dopo mesi di stop sta riaprendo le scuole e dove non ci sono nuove vittime ma soltanto sei nuovi casi nelle ultime ore, tre di questi sono importati. E allora adesso noi rientriamo in Italia, ci spostiamo in Liguria per il ponte di Genova perché inaugura oggi la posa in opera dell'ultima campata con la probabile presenza del Premier Giuseppe Conte e del Ministro delle Infrastrutture De Micheli. Il pezzo di impalcato salirà portato in quota dagli Strengec cui è stato ancorato nelle operazioni di Prevaro. Secondo le previsioni la campata sarà in quota entro questa mattina quando l'ultima campata del nuovo ponte di Genova verrà incastrata tra le pile completando di fatto l'intero tracciato in acciaio previsto dal progetto di Renzo Piano. La sirena del cantiere suonerà avvisando le navi in porto e rada che la parte a est e la parte a ovest della città di Genova sono finalmente riunite. A quel punto anche le sirene delle navi saluteranno il nuovo ponte. Questo è un simbolo dell'Italia che non si arrende, della Liguria che non si è mai fermata nonostante tutto portando nel cuore le 43 vittime del ponte Morandi, ha detto il governatore Toti. E adesso lo sport perché lo sapete anche lo sport è coinvolto nella pandemia, nel mondo del calcio e del governo cercano un'intesa che però appare sempre più difficile per la ripartenza, lo sapete, del campionato. Il ministro Spadafora conferma non sappiamo se la serie A potrà ripartire a giugno e dice non mi farò condizionare. Vediamo. È iniziata una settimana di febbrile lavoro per migliorare il protocollo di sicurezza sanitaria messo a punto dalla Federcalcio dopo le perplessità manifestate dal governo. Le componenti del football si confronteranno con il comitato tecnico scientifico. Da parte sua il ministro Spadafora ha respinto con decisione le accuse arrivate dal mondo del calcio. È ridicolo pensare che ci sia un complotto per chiudere la serie A. Al primo posto deve sempre esserci la sicurezza dei giocatori. Non sappiamo se si potrà ripartire a giugno. È già scattata la corsa alla fase 2 del calcio, al punto che ieri pareva tutto pronto per l'imminente rientro a Torino con un volo privato, come quando arrivò per la prima volta di Cristiano Ronaldo. Puntuale la smentita bianconera, ma entro il weekend il campione portoghese dovrebbe entrare nella quarantena prevista da regolamenti. Il suo compagno di squadra Higuain ha invece fatto sapere, tramite il padre Jorge, che non c'è aria di divorzio fra lui e la Juventus. E sempre dall'Argentina la notizia dello stop al campionato nazionale, proprio mentre la federazione belga sembra invece vicina ad un clamoroso ripensamento, pochi giorni dopo la cancellazione del torneo. Oltre manica, l'obiettivo per il fischio d'inizio in Premier dopo oltre un mese e mezzo di sosta è per l'8 giugno. Ieri prima seduta di allenamento con distanziamento sociale per l'Arsenal. In vista delle prossime importanti scadenze si muovono le federazioni mondiale ed europea. La FIFA intende proporre una modifica regolamentare che consenta 5 sostituzioni per squadra nella fase post-emergenza. Il momento è delicatissimo e ha reso inevitabile un corposo aiuto finanziario da parte dell'UEFA. Per le 55 federazioni sarebbero pronti 236 milioni e mezzo di euro. Nel resto del mondo dello sport prova a darsi un calendario la Formula 1. Cancellato il Gran Premio di Francia, fissato per fine giugno, si ipotizza una partenza di stagione per inizio luglio con Austria e Gran Bretagna pronte ad ospitare due gare nel giro di sette giorni sullo stesso circuito, rigorosamente a porte chiuse. E in mezzo a tanta incertezza ha sfogato la sua gioia invece Federica Pellegrini, finalmente in grado di tornare in piscina da lunedì per gli allenamenti. Comincia a scaldarmi, grazie Conte, le sue parole su Twitter. E allora mancano pochi secondi, una manciata di secondi alle 7.48, il telegiornale finisce qui, però rimanete con noi perché tra poco torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito di Omnibus che è condotto da Gaia Tortora. A tutti voi grazie per aver scelto la nostra informazione e se volete noi ci vediamo domani. Grazie, una buona giornata.